che va al di là. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Voce della quiete.vaianochiocciolagmail.com soggetto. L'amore è anche una radice comune che va al di là dei vostri problemi da risolvere, che va al di là delle vostre situazioni specifiche. È di questo che io voglio parlare, non delle mille forme dell'amore e non delle mille forme attraverso cui l'amore si presenta, si articola, si denomina, perché l'amore si denomina anche e di volta in volta può essere ardore, di volta in volta può essere sacrificio, di volta in volta può essere desiderio, di volta in volta può essere trasporto e immedesimazione.